Non ci saranno queste immagini a cui eravamo davvero molto abituati per il secondo anno consecutivo. Anche se la fede e la partecipazione per le celebrazioni in onore della Madonna dell'Altomare ad Andrea restano assolutamente immutate. Un continuo avvicendarsi di fedeli da questa mattina all'alba per rendere omaggio alla figura di Maria sulla barca, un culto antichissimo che si ripete ormai dal 1598 nella città di Andrea. Proprio in quell'anno si narra che una bambina caduta in una cisterna in piena campagna, proprio dove ora sorge la chiesa dell'Altomare, venne ritrovata dopo tre giorni e varie ricerche perfettamente asciutte in buona salute. La storia tramandata nei secoli dice che la bambina fosse stata aiutata da una donna che l'aveva sorretta al di sopra della superficie dell'acqua per tutto il tempo all'intero del Pozzo sembra poi essere stata anche realmente ritrovata, proprio l'effigie di quella che fu denominata la Madonna dell'Altomare e il culto si è tramandato per oltre quattro secoli sino ad arrivare ai giorni nostri in cui il simulacro sulla barca generalmente viene trasportato proprio per le vie della città tra due ali di folla. Tra le parti più suggestive ci sarebbe stata proprio questa uscita della chiesa e il percorso lunghissimo di 12 chilometri che si snoda per tutta la città di Andria ma oggi nulla di tutto questo, solo moltissimi fedeli in file ordinate ben distanziati all'interno dell'oratorio della parrocchia con circa 500 fedeli alla volta a partire dall'albe per tutte le celebrazioni sino a sera. Una tradizione differente che però non perde la sua forza evocativa per un culto antico e allo stesso tempo molto sentito non solo nella città di Andria anche i giorni nostri. La speranza è naturalmente che si possa al più presto, magari il prossimo anno tornare alle processioni per le vie della città.